... però tranquille, le quadra azzurre, Alice Magione, Rebecca Borga, Alessia Tierretta ed Aurora Marchiando... ... che vanno di un passo verso la partenza... ... che ha vinto i 400 ostacoli, poi Chiaretto Winters e per ultra, inquadrata, prima frazionista per il quartetto azzurro... ... le attrete tutte lì, in attesa, Repubblica cieca, Canada, Jamaica, Stati Uniti, Italia, Ucrania, Polonia e Germania... ... la lotta dovrebbe essere tra Jamaica e Stati Uniti, occhio anche alla Germania... ... e speriamo una bella gara del quartetto azzurro, partita fortissima all'Ucraina e anche gli Stati Uniti... Eh sì, purtroppo le azzurre non sono partite velocissime, ma è anche vero che hanno all'interno degli Stati Uniti e davanti l'Ucraina... ... e quindi... ... è una situazione difficile per le azzurre... ... l'Ucraina è andata addirittura a prendere la Germania... ... ma è lontano... ... spinge la IRB... ... adesso viene avanti anche la Jamaica all'interno di nuovo... Ricordiamo sempre che nella 424 il primo cambio avviene ancora con il décalage... ... e quindi... ... la Germania e l'Ucraina dovranno fare più strada rispetto agli Stati Uniti... ... Anna Cochran, guardate che è fisico... ... la statunitense pronta a prendere il testimone... ... e anche che qui nella 424 non è così problematica... ... attiva attenzione... ... la Cochran che stava uscendo quasi dalla corsia... ... si sta difendendo bene la Jamaica... ... e adesso... ... ottavi siamo... ... siamo praticamente in fondo... ... e adesso si scende alla corda... ... Tiffany James contro la Cochran... ... e allunga la James... ... l'Italia è ultima... ... si... ... e anche lontani... ... James... ... Cochran... ... poi la... ... Germania... ... in terza posizione... ... le giamaicani che hanno fatto un finale di prima frazione... ... e poi... ... anche la seconda frazione... ... è... ... è andata velocissima... ... adesso la Cochran sta cercando di... ... di guadagnare terreno... ... e cambiano alla pari... ... praticamente Jamaica e Stati Uniti... ... avete visto come la frazionista giamaicana... ... stava praticamente sul bordo della prima corsia... ... e questo per scacciare il più possibile... ... la statunitense... ... e non lasciare spazio... ... adesso però si allarga la giamaicana... ... lasciando lo spazio... ... per il passaggio interno... ... con Winters... ... che supera Williams... ... non ho capito... ... vede perché la giamaicana... ... si è allargata così tanto... ... mentre il... ... la Germania tiene sul Canada... ... Italia staccatissima... ... Winters... ... difficoltà per la Williams... ... ha andato poi in seconda corsia... ... vabbè... ... larghissima... ... perché... ... ho capito perché è andata in seconda corsia... ... assurda la scelta della giamaicana... ... che forse... ... non sa bene la regola della staffetta... ... continua a correre lì... ... adesso... ... ma il video non cambia niente... ... ma la curva... ... ha perso almeno un paio di metri... ... dalla statunitense... ... adesso con... ... gli Stati Uniti che lanciano... ... Samantha Watson... ... Junelle Brunfield... ... ma occhio alla... ... Canada... ... in lotta con la Germania... ... Tachinsky contro... ... per Genthaler... ... Watson... ... che guarda... ... ma qui poi... ... adesso c'è anche la classe... ... perché... ... eh... ... Germania e Canada... ... bello sprint eh... ... eccole qua... ... per Genthaler... ... cambia passo la canadese... ... prova a tenere l'Ucraina... ... che sta cercando il tutto per tutto... ... per rientrare... ... Watson... ... irraggiungibile... ... spinge la Brunfield... ... l'attacco adesso della tedesca... ... per la medaglia di bronzo... ... Tachinsky che tiene... ... oro per gli Stati Uniti... ... argento per la Giamaica... ... e poi... ... bronzo per il Canada... ... vero di un... ... di un cerimento della Tachinsky... ... ce la fa il Canada... ... ce la fa il Canada... ... ce la fa il Canada... ... bronzo per il Canada... ... quarto posto per la Germania... ... quinta l'Ucraina... ... poi Polonia... ... che adesso arriva l'Italia... ... pubblica cieca... ... sì... ... in 3 e 42... ... eh... ... l'Italia malissima... ... si va in 42 e 56... ... un tempo molto alto... ... ovviamente molto alto... ... molto alto... ... molto alto... ... per il quartetto azzurro... ... di Germania... ... dell'88... ... e adesso c'è il... ... quartetto... ... statunitense... ... hai visto però... ... la statunitense è andata... ... con l'altra corsia... ... aspettiamo l'esito... ... Italia... ... 3 e 42 e 53... ... da Fuliti... ... 3 e 29 e 11... ... seconda la Giabaica... ... e terzo il Canada... ... e qui... ... vedete la Marchiando... ... che si fa vedere... ... ma... ... come dicono a Napoli... ... a Tavenichi... ... ultimo cambio per l'Italia... ... lontanissima... ... come abbiamo sempre... ... diciamo sottolineato... ... in queste due settimane... ... di atletica europea... ... il mondo...